Il Friuli-Venezia-Giulia è in zona gialla, l'Alto Adige in Bilico, altre quattro regioni sotto osservazione, Valle d'Aosta, Calabria, Lombardia e Lazio. I dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità non lasciano dubbi. La quarta ondata è arrivata, i 7 milioni di italiani ancora non vaccinati iniziano ad affollare reparti Covid, soprattutto le terapie intensive che in Friuli hanno già superato la soglia di rischio. In Alto Adige invece sono sopra la soglia, solo i reparti Covid, esattamente al 10% invece le intensive, valore che potrebbe ancora rimandare, ma le decisioni sono attese per oggi, l'ingresso in zona gialla. Numeri che si accompagnano ovviamente ad altissimi tassi di incidenza, cioè il numero di positivi su 100.000 abitanti, 346 per il Friuli contro una soglia di attenzione pari a 50, 458 la più alta d'Italia per l'Alto Adige. Nessuna altra regione si avvicina per ora ai limiti per il passaggio in giallo, il resto del paese quindi attende il 6 dicembre per applicare le nuove regole sanitarie di prevenzione del contagio, contagi che continuano a salire di circa 1.000 unità al giorno, oltre 13.000. Ieri sale l'incidenza settimanale dei casi di Covid a 125 per 100.000 abitanti contro i 98 di 7 giorni fa. Resta stabile l'indice di trasmissibilità nazionale RT a 1,23. In fortissimo aumento invece i casi non legati a catene di trasmissione, segno che i vaccini proteggono bloccando la formazione di focolai attorno a un positivo. In aumento generale i tassi di occupazione nei reparti ordinarie in terapia intensiva. Forti dell'esperienza del passato, molti sindaci hanno deciso di anticipare il governo e non aspettare il 6 dicembre per bloccare la trasmissione del virus. Obbligo di mascherina anche all'aperto nei centri storici affollati in vista del Natale a Milano, Padova, Bergamo, Bologna, Aosta, Firenze e Trento. A Roma potrebbe arrivare a breve. L'Alto Adige aggiunge anche obbligo di mascherina FFP2 sui mezzi pubblici.